Di nuovo buongiorno Friuli e bentornati in diretta dal nostro studio di Udine per proseguire questa mattinata assieme con un approfondimento dedicato quest'oggi a Via Mercato Vecchio perché oggi è una giornata molto importante per il futuro di Via Mercato Vecchio e attesa infatti la sentenza del Tar sul ricorso presentato dall'Associazione Amici di Via Mercato Vecchio contro i lavori di pedonalizzazione della strada principale di Udine, quindi una giornata molto importante e con noi c'è in studio il Presidente dell'Associazione degli Amici di Via Mercato Vecchio Gianni Croato Buongiorno e benvenuto nei nostri studi. C'è anche il nostro Stefano Giovampietro che è rimasto con noi. Ciao Stefano, tra poco verremo da te anche per gli aggiornamenti di cronaca, gli spunti di approfondimento Prima però come sempre le previsioni del tempo. Oggi al telefono con noi abbiamo Livio Stefanuto. Buongiorno Livio Ciao, ciao, buongiorno a tutti Ciao Livio. Dopo il vento, la pioggia, la neve dei giorni scorsi, oggi come andrà la giornata sul fronte meteo? Sì, beh finalmente la depressione che ci ha interessato negli ultimi tre giorni si è allontanata esaurendosi verso il sud quindi il tempo soleggiato oggi su nostra regione, questa mattina è quasi ovunque sereno salvo sulle Alpi Giulia e sul Tervisiano dove rimane un po' di nuosità portata da correnti da est in giornata direi bel tempo, oggi quasi ovunque salvo appunto ancora qualche residuo di nuosità sul fondo valle Tervisiano ma direi tutto sommato una buona giornata col passare delle ore verso sera potrebbe formarsi qualche nuvola un po' più consistente sui settori occidentali questo perché nelle prossime ore potrebbe formarsi un'altra depressione sul tirreno più occidentale e quindi richiamare di nuovo un po' di correnti umide da sud che porteranno domani di nuovo un cielo più nuvoloso, più chiuso specialmente sulla pianura e sulla costa dove rimarrà prevalentemente nuvoloso coperto poche schierite presenti ancora in montagna e non è escluso anche qualche breve e debole pioggia sparsa direi forse più probabile sulla costa e sulle zone della bassa pianura più occidentale Temperature, questa mattina freschetto, tutto sommato nel Porto dell'Onese valori attorno ai 4-5 gradi le temperature minime qualcosina in più invece a Udine dove soffiava un po' di vento quindi le temperature minime sono rimaste attorno ai 7-8 gradi massime oggi attorno ai 17-18 valori che saranno simili forse anche domani forse le minime qualche grado un po' più alte e le massime un paio di gradi un po' più basse per la mancanza del sole A proposito di temperature, la neve che è caduta in questi giorni in montagna rimarrà oppure le temperature saliranno e si scioglierà rapidamente? Il zero termico tenderanno di nuovo a sciogliersi è la prima neve e quindi è normale che tenda a sciogliersi all'inizio quindi rimarrà direi soltanto in quota lo zero termico si assesta attorno ai 1700-1800 metri e quindi al di sopra appunto dei 2000 rimarrà al di sotto fondo vale direi che tenderà a sciogliere Perfetto, grazie all'Ivio Stefanuto per queste previsioni ci risentiamo nei prossimi giorni A tutti E allora chiudiamo questa nostra parentesi dedicata al meteo e cominciamo a parlare di questa attesa per questa sentenza del Tar Gianni Croatto come state vivendo diciamo queste ore? Per voi è molto importante che insomma il Tar vi dia ragione? Beh ovvio per noi è molto importante sotto tutti i profili uno perché siamo pienamente contrari a questo tipo di penalizzazione ma non contrari in assoluto alla penalizzazione della via ma sicuramente a questo tipo perché lo riteniamo sbagliato, fatto male e non pensato ma non lo riteniamo noi come commercianti che non possiamo sapere molto ma sicuramente il nostro architetto che ci ha seguito Pierluigi Grandinetti, architetto Venezia che ha fatto una relazione insieme al nostro avvocato veramente notevole e secondo noi ovviamente dopo sarà il Tar che deve decidere che è sopra di tutti dà sicuramente addito a pensare che abbiamo buone probabilità di vincere e rimandare questo tipo di penalizzazione anche perché essendoci a breve le nuove elezioni tanto vale aspettare lasciare il nuovo sindaco decidere sui prossimi cinque anni della città Andremo a sentire poi al telefono anche l'avvocato De Paoli che magari ci spiegherà bene le questioni tecniche proprio legate a questo ricorso Lei ha detto che voi non siete contrari in toto alla penalizzazione quindi le vostre richieste quali sono? Cosa si dovrebbe fare per via Mercato Vecchio? Prima di tutto bisogna farla rivivere e farla rivivere con un tipo di penalizzazione tipo questo e pavimentazione tipo questo è sicuramente deleteria perché non è una pietra che si adatta e poi oltretutto sicuramente non hanno pensato nulla per quanto riguarda il futuro dopo aver penalizzato cosa vuole che cambi se non c'è un programma per richiamare le persone per richiamare la gente perché il problema della via Mercato Vecchio è sì che la via come si vede non è bellissima ma manca la gente che viene e che torna come una volta a essere presente nella via perché è una via grande, larga e perché si veda presenza ci vogliono molte persone Sicuramente andiamo a sentire a proposito delle persone dei frequentatori di via Mercato Vecchio cosa pensano di questa strada e di questo progetto Monica Nardini ha realizzato questa Vox Populi sentiamo Favorevole o contraria alla pedonalizzazione? Ma io sono favorevole sinceramente Perché favorevole? Perché Udine ha bisogno di un po' di vita ha bisogno di avere degli spazi da essere vissuti Favorevole però vorrei che mettessero delle telecamere anche in via Caiselli e nella via parallela dove c'è l'università perché abbiamo dei problemi la sera con alcune persone che utilizzano queste vie insomma per scopi proprio c'è poco insomma La necessità appunto che la zona sia più vivibile ma con i dovuti controlli Con i dovuti controlli e poi magari siccome ha fatto un esempio di pedonalizzazione con questa pietra pesentina mi scusi non sono di qua quindi magari sbaglio anche però come si dice vorrei una cosa fatta bene per sempre che però non deturpi l'area cioè che si iscrivi completamente all'interno della struttura architettonica della zona Assolutamente contrario per la pedonalizzazione e sia che rovina il commercio lo dico perché ho lavorato 30 anni nel commercio e in più sarebbe veramente uno scempio se venisse rifatta la pavimentazione e su questo sono perfettamente in sintonia con Scardi Ma io non sono di Udine sono qui come studente pendolare tendenzialmente sarei abbastanza favorevole però devo dire che anche così come adesso non funziona affatto male Perché sarebbe favorevole? Perché più oltre sono convinto che la pedonalizzazione dei centri storici come viene molto città d'Europa porti un sacco di vantaggi se organizzata bene ovviamente se non c'è un piano convincente si può agassare così com'è Favorevole, favorevole Perché favorevole? Perché tante città ce l'hanno in centro e tutto funziona e quindi per via Mercato Vecchio può andare bene Favorevole? Perché favorevole? Perché in tutto il mondo nei paesi più piccoli del terzo mondo il centro è sempre pedonale dappertutto Quali sarebbero a suo avviso i vantaggi per via Mercato Vecchio e non solo? Più socializzazione tra la gente più ritrovo poi dicono che Udine è morta non è morta basta uscire e poi camminando ci si trova di più E queste dunque alcune testimonianze che ha raccolto la nostra Monica Nardini ieri in una giornata piovosa in via Mercato Vecchio Croato abbiamo sentito che alcune persone sono favorevoli alla pedonalizzazione prendono ad esempio le grandi città che hanno le strade pedonali spesso si paragona anche Udine a Vienna però appunto quello che voi sottolineate è che la pedonalizzazione deve essere fatta in un certo modo cercando poi di riempire anche questa via che se pedonale ma vuota non avrebbe alcun vantaggio per la città Esatto, perfetto lei pensi che se facessero se fosse pronta la pedonizzazione cosa cambia da oggi? Vengono a vedere la pedonizzazione troppo poco non cambierà niente perché il problema è che Udine attira un po' sempre meno persone e quindi di conseguenza devi far cambiare questo trend che è cambiato lentamente negli anni grazie anche ai centri commerciali che hanno portato via tante persone quindi perché io abitante dico troppo devo venire a Udine centro non vengo perché o vengo poco perché non c'è grande attrazione io prendo molto spesso scusate spesso ad esempio che ci vi dà che fa tante piccole cose il sabato e la domenica la gente va noi dobbiamo fare assolutamente la stessa cosa ogni venerdì ogni sabato e magari domenica ci deve essere qualcosa ma di tutte le settimane non una volta al mese non friulidò che è una cosa bella finché si vuole ma è una cosa che viene una volta all'anno è troppo poco io sono convinto che facendo un programma serio sicuramente la città rivive ma rivive anche con la strada così perché non è la strada che cambia poi questo tipo di pavimentazione come dicevo prima sicuramente non è la migliore l'acqua come il nostro punto più importante è proprio quello che nella loro disegno del progetto della via sicuramente non riuscirà andrà tutto a finire ecco si vede sulla parte sinistra del via Mercato Vecchio perché scendendo dal castello e vengono spesse questi acquazzoni enormi come è fatta secondo noi e secondo l'architetto chiaramente non riuscirà a drenare del tutto andrà a finire sui negozi partendo dal primo su via Mercato Vecchio sulla sinistra con il senso di mazza di automobili un progetto che comunque è stato approvato dalla soprintendenza adesso dovremmo avere in linea l'avvocato Luca De Paoli che appunto segue l'associazione amici di via Mercato Vecchio e che oggi sarà davanti al TAR per ascoltare questo verdetto buongiorno avvocato buongiorno a voi buongiorno a tutti buongiorno le chiediamo sinteticamente perché poi appunto sappiamo che deve scappare alle 10 c'è l'appuntamento con il TAR le chiediamo di dirci sinteticamente quali sono i punti sui quali voi farete leva avete fatto leva per sperare e puntare ad un accoglimento del vostro ricorso sì so che appunto la stampa ha ripetutamente ripreso i contenuti di quello che noi stavamo facendo il ricorso è molto articolato perché appunto siamo partiti con un atto introduttivo che però poi in relazione a dati che poi sono successivamente emersi o comunque il comune è successivamente adottato e anche la sua intendenza sono stati arricchiti di motivi aggiunti siamo arrivati ai quarti motivi aggiunti quindi capirete che il tema è piuttosto vasto perché si parte dall'utilizzo del materiale quindi la pietra piasettina per poi arrivare ad aspetti piuttosto importanti come appunto è stato ricordato poc'anzi il sistema di drenaggio come è stato calcolato perché il progetto ha avuto delle modifiche cammin facendo e a nostro avviso ci sono delle problematicità piuttosto rilevanti proprio sulla capacità del sistema di drenaggio che è stato prefigurato di ricevere le acque piovane di drenarle adeguatamente e poi c'è il tema della coerenza dell'ultima versione progettuale con quello che nel 2012 la sovrintendenza aveva prescritto vale a dire il mantenimento dell'attuale assetto forma diciamo così fisica della strada con baulatura e canalette ai due lati che invece pare essere stata completamente soppiantata da una pavimentazione che ha una sezione di tipo completamente diverso questi sono diversi temi che poi andremo separatamente ad analizzare che il TAR dovrà valutare insomma tanti punti mi pare sui quali voi avete richiamato l'attenzione dei giudici io le chiedo la decisione di oggi del TAR che peso avrà cioè è la decisione definitiva siamo abituati a sentire decisioni appelli sospensive decisioni del TAR che entrano nel merito il valore della sentenza che metterà oggi il TAR qual è? beh allora innanzitutto oggi è fissata una camera di consiglio in cui formalmente il TAR dovrebbe adottare un provvedimento cautelare quindi una sospensiva non una sospensiva l'udienza di merito non è ancora fissata e il TAR dovrà individuarla quindi adesso le possibilità possono essere diverse perché il TAR in astratto nell'udienza di sospensiva può anche trattenere ricorso in decisione e fare una sentenza questo lo capiremo solo stamattina perfetto va bene allora grazie all'avvocato Luca De Paoli per questo intervento ovviamente poi vi terremo aggiornati e vedremo come andrà anche questa questa vicenda nel nostro TG del 19 vi daremo tutti gli aggiornamenti grazie all'avvocato De Paoli buona giornata e buon lavoro grazie altrettanto eccoci qua erano arrivati anche i saluti di Gianni Croatto all'avvocato De Paoli da quello che abbiamo capito insomma oggi sarà una decisione importante quella del TAR ma potrebbe non essere quella definitiva quindi la vicenda è destinata a protrarsi nel tempo una vicenda che è nata tantissimi anni fa Croatto lei è un commerciante storico di Unile quando si è iniziato a parlare di pedonizzazione ma di pedonizzazione di un mercato vecchio se non sbaglio sarà almeno 25 anni che si parla 20-25 anni sicuro dopo si è sempre rimandato ripensato anche perché alla fine non hanno mai voluto farlo un po' perché dicevano che era causa nostra ma non è vero perché questa volta che hanno voluto farlo l'hanno fatto quindi sono sempre loro che comandano il problema è quello che la città di Udine sta sempre un po' più purtroppo perdendo grazie a Dio non come clientela ma sicuramente come presenza di persone ed è questo che è brutto e quindi qualcosa abbiamo da fare ma sicuramente questo tipo di prenazione è la cosa per noi sbagliata sbagliata perché porterà dei danni notevoli alla città di Udine e di conseguenza non potevamo stare lì ad aspettare che questo succedesse abbiamo preso le redini in mano e abbiamo fatto questo ricorso cosa che non è mai successa a Udine perché l'amministrazione comunale non ha mai avuto qualcuno che protestasse seriamente si è sempre protestato in modo un po' leggero e quindi loro credevano che si continuasse sempre nello stesso modo ma la stazione Amici Mercato Vecchio era pienamente consapevole di questa pericolosità di questo piano e di conseguenza ha messo le mani al portafoglio alla volontà e abbiamo fatto questo importante ricorso tra poco andremo a sentire anche le parole del sindaco Onsel che abbiamo intervistato ieri prima però Stefano a proposito di città europee prima avevamo sentito anche in un'intervista una signora che diceva tutte le principali città europee hanno una via pedonale so che il web ci dà qualche spunto di approfondimento a proposito ha un centro con area pedonale sicuramente ma non è solo questo che però rende Vienna la città più vivibile del mondo la capitale austriaca ha davvero tantissimi record e per questo è la città più vivibile del mondo dai wafer ai cetrioli allo zoo ai globi di vetro anche il museo dei meteoriti tutti Uber Alice per i criteri valutati ci sono il clima politico sociale economico assistenza sanitaria possibilità di formazione infrastruttura offerte ricreative e culturali c'è anche un interessante slide show dei posti più belli di Vienna si vede ovviamente un centro si intuisce un centro vivo comunque molto frequentato oltre che le bellezze artistiche e paesaggistiche che non mancano e poi l'eccellenza dei cetrioli i grandi concerti e anche qui come al solito un centro sempre vivo non soltanto in determinati i momenti dell'anno ma proprio tutto l'anno questo è lo zoo e via via tutto il museo dei mappamondi e le eccellenze di Vienna città più vivibile del mondo grazie a Stefano per questa curiosità croatto voleva replicare poi andiamo a sentire Onsel che il paragone con Vienna mi sembra eccessivo io direi solo quanti abitanti a Vienna e a Udine come comune Udine a 100.000 per arrotondare in eccesso e quindi non si può pretendere che abbia un metri quadri come viene chiaramente non si possono metri vicino si potrebbe ragionare con Villacco che anche quello è un centro pedonale che su quello però rimane sempre quello che ha detto il nostro Stefano che bisogna programmare fare qualcosa con quello funziona altrimenti non funziona niente non è possibile andiamo a sentire le parole del sindaco Onsel che difende appunto questo progetto del comune sentiamo tra poche ore dunque la sentenza del TAR sulla pedonizzazione di via Mercato Vecchio come sta vivendo queste ore spero che ci sia che non ci sia un ulteriore rinvio ovviamente io ho fiducia nel sistema giudiziario italiano sono certo appunto che emergerà con chiarezza che è nell'interesse diciamo di tutta la città che si prosegue con questa decisione perché è nelle piene facoltà di chi è stato diciamo legittimamente eletto di poter fare scelte importanti anche per il benessere dei cittadini e per lo sviluppo e la qualificazione della città che tiene così tanto a questo progetto ma innanzitutto ha una sua valenza proprio architettonica artistica i centri di tutte le città più belle d'arte come Udine sono ormai tutelati e sono valorizzati anche attraverso diciamo quelle che possono essere le riqualificazioni in secondo luogo anche proprio per un motivo di simbolico cioè il centro pedonalizzato un centro che sia anche valorizzato ambientalmente e anche architettonicamente vuol dire tutta una serie di valori civili ma anche ambientali sui quali io penso si deve costruire il futuro a chi sostiene che la scelta su questo importante progetto andrebbe lasciata alla nuova amministrazione comunale cosa obietta? Ma questo noi siamo perfettamente questa iniziativa è iniziata già diciamo nel mio primo mandato poi ci sono stati ulteriori ritardi ci sono state difficoltà è una scelta diciamo lungamente ponderata e dunque sì so bene che c'è il partito purtroppo nel nostro paese che vuole non vuole decidere mai ma insomma penso che sia responsabilità di chi si trova in questo momento a poter decidere di dover decidere queste dunque le parole del sindaco Onsel per quanto riguarda appunto il progetto di pedonalizzazione di via mercato vecchio di cui come abbiamo sentito si parla da tantissimi anni già nel primo mandato Onsel era stato avviato questo progetto che poi in questi ultimi mesi appunto ha subito un'accelerata anche perché siamo vicini alla fine del secondo mandato del sindaco ritornando in studio croato lei prima ha detto che è importante rendere viva sempre la città per richiamare l'interesse anche dei non udinesi del circondario di chi arriva anche da fuori regione ma in questo i commercianti faccio un po' l'avvocato del diavolo fanno abbastanza o potrebbero fare qualcosa di più di più si può fare sempre quello è certo è chiaro che oggi come oggi non si fa tantissimo c'è qualche grossa azienda che lo fa sicuramente fa promozione sia all'estero oltre che nel Friuli è chiaro che dovremmo metterci tutti assieme ma chiaramente sempre un po' con l'amministrazione comunale perché deve darci una collaborazione totale per riuscire a fare queste cose quindi ci vuole metterci assieme trovare un sistema diciamo di marketing pubblicitario ma anche di marketing vero e proprio e aprire diciamo tutte le belle cose che ci sono a Udine perché se uno segue Udine la va la visita la guarda sicuramente ci sono tante cose belle tutti quelli che vengono dicono che Udine è bella è carina ed è molto attraente sotto tutti i punti di vista quindi basterebbe poco per farla migliorare quindi noi siamo più che disponibili a mettere del nostro però sempre in collaborazione non come fanno sempre facendo cadere dall'alto la loro idea e dicendo che è la migliore è chiaro che diranno no che l'assessore al commercio parla sempre con i commercianti però parla sempre con quei commercianti dovrebbe un po' parlare un po' con tutti e dopo decidere come giustamente è come diceva il sindaco chi è stato votato deve decidere però non funziona proprio così funziona un po' malino si dovrebbe voi dite che non vi ascoltano tutti abbastanza non ci ascoltano tutti abbastanza fanno in modo che si faccia quello che loro pensano e chi protesta particolarmente viene sempre un po' non dico messo in disparte ma cercato di non farlo parlare viene un po' arruginato adesso che siamo vicini al Natale ci stiamo avvicinando al Natale sappiamo che è il momento forse più importante dell'anno da un punto di vista commerciale anche per la città di Udine mentre stiamo vedendo alcune immagini di come potrebbe essere via Mercato Vecchio in base al nuovo progetto del Comune dicevamo adesso che si avvicina il Natale ci sono delle iniziative come siamo con le luminarie le luci aperture straordinarie vi state muovendo un po'? beh ci muoviamo come ci si muove sempre chiaramente come dicevo prima ci vorrebbe un po' di più e un po' di più tutti assieme e per quanto riguarda le luci sì è andato abbastanza bene parecchie vie sono illuminate quindi va tutto bene chiaro che qualcosa di più si potrebbe fare ma ritorniamo al problema di prima ci vorrebbe che insieme all'amministrazione si facesse qualcosa di importante di continuativo a partire anche da cose importanti importanti tipo cultura roba del genere una bella mostra che possa durare un anno un anno e mezzo ma qualcosa di bello che la gente viene perché il turismo culturale è un turismo che funziona e potrebbe funzionare sicuramente anche per il Centro Storico di Udine ma tutta Udine stessa fare sempre qualcosa per le famiglie perché ritengo che se tu porti i bambini e quindi in conseguenza le famiglie crei un interesse ancora maggiore perché una volta che uno viene a Udine dopo torna perché sicuramente è bella e simpatica come dicevo prima è molto fruibile ed ha tutto praticamente poi ci sarebbe qualcosa qualche attività da aggiungere che però è difficile oggi come oggi nel Centro Storico si parla infatti spesso anche dell'offerta commerciale che magari dovrebbe essere cambiata in qualche modo cosa manca? prima di tutto avrebbe in mente sono gli elettrodomestici quella grande però che nel Centro Storico non c'è lo spazio hanno provato proprio qua sotto sotto la vostra sede ma anche lì non ha funzionato in maniera ottimale invece per quanto riguarda le iniziative del Natale abbiamo parlato il parcheggio di Piazza Primo Maggio che è vicinissimo a Via Mercato Vecchio lei come valuta? è un esperimento riuscito un esperimento un investimento è un investimento che visto che hanno trovato i soldi era da fare perché sicuramente alla città di Unione servirà moltissimo l'unica cosa che mi dà un po' fastidio è quella proposta che ha fatto adesso l'amministrazione comunale che vuole chiudere far continuare la città del Castello verso Piazza Primo Maggio cioè verso proprio l'anello di Piazza Primo Maggio chiudendo le due strade questo mi sembra una cosa assurda in questo tempo in questo momento ed è sicuramente un progetto secondo me da ripensare da rivedere hanno fatto un concorso di idee ma sempre con quei puntini sulle i cioè doveva essere chiuso in quella maniera lì mi sembra una cosa in questo momento non corretta c'è il parcheggio nuovo ma se mi tolgono i parcheggi sotto il castello e lateralmente c'è la viabilità per dietro bisogna togliere ancora parcheggi quindi dei 400 parcheggi nuovi del nuovo parcheggio e i 400 a raso sono 800 posti che sono abbastanza tanti direi molti mi tolgono 400 torniamo come prima torniamo come prima senza abbastanza parcheggi per quella zona mi direi che veramente non pensano benissimo potrebbero impegnarsi un po' di più ma chissà quando vedrà la luce anche questo progetto per il collegamento fra piazza primo maggio il castello il bellissere insomma tutto il nuovo progetto di quell'area visto quanto è andato avanti il progetto per la pedonalizzazione di via Mercato Vecchio chissà quando vedremo insomma questo nuovo collegamento molti di noi sperano nel nuovo sindaco nel nuovo sindaco vedremo vedremo quello che accadrà Stefano c'è qualche aggiornamento di cronaca da dare oppure ci fermiamo per la pubblicità sì aggiornamenti di cronaca ne abbiamo un paio uno dall'Italia uno dal mondo con 5 arresti e 19 persone indagate a Firenze per alimentare i nocivi in un'operazione del nas dei carabinieri nei confronti degli appartenenti ad un'associazione per delinquere finalizzata la truffa ai danni di antipubblici frode nelle pubbliche forniture commercio di sostanze alimentari nocive e false a conclusione delle indagini sono state emesse 5 ordinanze di custodia cautelare agli arresti domiciliari mentre altre 19 sono indagate in stato di libertà poi il nostro tuffo in America perché nella notte poi le notizie arrivano soprattutto dagli USA c'è la questione molestie per Henry Weinstein che sarà presto incriminato lo dice il sito TMZ secondo cui il procuratore di New York Cyrus Vance è pronto a formalizzare le accuse contro il produttore americano salito alla ribalta delle cronache negli ultimi giorni la NBC ha ricordato che il capo degli inquirenti della polizia di New York Robert Boyce venerdì ha dichiarato ai giornalisti che si stavano raccogliendo le prove in vista di un possibile arresto con l'accusa di presunto stupro per questo produttore cinematografico che approfittava della sua posizione per comunque avere favori sessuali da alcune attrici anche piuttosto famose grazie grazie Stefano per questi aggiornamenti noi siamo in chiusura di questa prima parte del nostro approfondimento di oggi ringraziamo Gianni Croato per essere stato con noi buona giornata buon lavoro e attendiamo il risponso del Tar il sindaco Onsel ha detto speriamo che non sia un'ennesima sospensiva vedremo noi diciamo speriamo che sia un'ennesima sospensiva vedremo quello che accadrà vi terremo aggiornati telegrafico se il progetto del comune era perfetto come sarebbe dovuto essere noi non ci sarebbero potuti appigliare a nulla quindi devono fare meglio le cose grazie a Gianni Croato noi ci fermiamo per un attimo di pubblicità poi saremo di nuovo assieme cambieremo argomento parleremo di cammini oggi è la giornata del cammino quindi nel pomeriggio c'è un'interessante iniziativa in programma proprio in città per andare alla scoperta a piedi delle zone di Udine ne parleremo tra poco eccoci di nuovo in diretta per quest'ultima parte del nostro Buongiorno Friuli dedicato a un'iniziativa in programma a questo pomeriggio in città prima abbiamo parlato della pedonalizzazione di via Mercato Vecchio continueremo ad andare a piedi in questa seconda parte di Buongiorno Friuli a scoprire le zone particolari della nostra città perché questo pomeriggio è in programma un'iniziativa che rientra nell'ambito delle iniziative messe a punto dal comune di Udine per la giornata nazionale del cammino ne parliamo assieme a Marco Lamon nostro ospite buongiorno e benvenuto in studio Lamon fa parte dell'associazione Suite Team Aniad FVG che è una delle realtà che partecipano alle iniziative del progetto dell'OMS città sane del comune di Udine che appunto ha messo in atto in questi anni diverse iniziative per coinvolgere la gente in attività sportive incamminate attraverso i luoghi della città io le chiederei subito di raccontarci cosa accadrà questo pomeriggio dove è l'appuntamento cosa si può fare cosa si può vedere e poi magari raccontiamo qualcosa di più su questo progetto l'appuntamento sarà alle 15 sul terapieno davanti alla loggia di San Giovanni e da lì il programma prevede la salita al castello e l'inizio di questo viaggio ideale potremmo dire sulle su quelle che sono stati i punti fondamentali della storia iniziale di Udine quindi le sue e lo sviluppo della città seguendo la storia delle cinque cinte murarie che l'hanno contraddistinta dal passaggio dalla prima donazione del territorio di Udine dall'imperatore al patriarca di Aquileia fino al primo periodo della dominazione veneziana e diciamo che oltre a un percorso storico ci si potrà anche soffermare su alcuni punti curiosi della storia di Udine che tante volte sono anche misconosciuti per esempio proprio a due passi da questa sede abbiamo scoperto una targa all'inizio di Via Battisti che è molto enigmatica però andando a vedere la storia del tempo vediamo che ci sono state delle rivolte tra la popolazione e delle brigatte provenienti da Treviso che hanno segnato proprio l'evoluzione storica ed è una targa messa lì da anni che la maggior parte della popolazione non sa nemmeno a cosa si riferisce per cui abbiamo cercato di fare un percorso storico ma anche con un po' di gossip potremmo dire per rendere ancora un po' più curiosa questa scoperta della città della Udine Cintamurata avete definito così questo percorso tra l'altro questo è uno dei percorsi che avete messo appunto nell'ambito di queste iniziative del progetto dell'OMS avete realizzato anche un'app vediamo se Stefano forse ci può aiutare ci può mostrare potenti mezzi tecnologici l'abbiamo fatta prendo l'app sul cellulare la possiamo far vedere anche a voi da casa ecco qua con Città per Camminare si chiama l'app non solo un progetto ideato per promuovere l'attività motoria e stili di vita salutari un servizio offerto ai cittadini per vivere in maniera più consapevole la propria città e il proprio territorio vediamo le categorie con ovviamente anche la possibilità di fare un profilo di entrare in una community e di proporre anche il percorso o di sceglierlo magari tra quelli già proposti accettati dalla tua posizione oppure questo ovviamente con il GPS è molto semplice intuitivo altrimenti proviamo Stefano ecco dalla tua posizione che così parliamo se si vuole essere un po' più così precisi si va per per regioni quindi dobbiamo scendere parecchio stavo andando alla F di Friuli ma giustamente era tutto sbagliato ecco qua ci sono le città Udine con il caricamento che è in corso ecco qua con il cammino sulle orme di Provino e Gino Valle in città tra vecchi e nuovi siti istituzionali la storia tra Cinte Muriel e Rogge sceglierei questo perché mi ispira si entra nel percorso ecco qua sto facendo tutto live io non ho mai usato questa app perché tra l'altro è molto bella e ti dice comunque la durata quella che è la mappa del percorso i punti di interesse anche per fermarsi poi durante la camminata e quelle che sono un po' tutte le informazioni per partire cosa faccio ecco qua può mettere ecco la mappa sì c'eravamo prima sulla mappa insomma bisogna la mappa del percorso poi ti dirà ecco qua i vari punti a me l'ha già aperto poi magari adesso il computer ci arriva un po' più tardi ti fa vedere tutto il disegno il tracciato per capire dove bisogna andare con tantissimi punti di interesse davanti è una città abbiamo scoperto veramente anche noi che offre tanti e tanti punti di interesse piccoli scorci che però sono stati fondamentali per la storia di Udine davanti ai quali come diciamo spesso anche delle nostre trasmissioni del mattino l'altro giorno eravamo andati alla scoperta degli alberi monumentali della città tanti punti tante curiosità davanti alle quali passiamo magari tante volte durante il giorno ma senza fermarci a guardare vedo Stefano che sta continuando a smalentare basta cliccare sul punto di interesse e ti dice roggia di Udine tratto scoperto tutti quanti sono selezionabili per capire ecco qua piazza primo maggio e via dicendo e poi sull'altra opzione trova proprio la descrizione non particolareggiata perché è sempre un'app ecco come in questo caso però di dire cosa fare cosa si può trovare in quel punto con qualche dato storico e culturale qui poi prendendo il pulsante start si può registrare anche per molto utile abbiamo visto per controllare anche i parametri si mette il peso anche per capire un po' come si evolve la condizione fisica ecco molto importante per qualcuno che però non è in linea con la giornata del cammino e di dire faccio la camminata mi appaiono le calorie che ho spese e poi con il consiglio di non fermarsi al primo bar e recuperare immediatamente quanto speso anche perché questi percorsi non sono tra virgolette stati messi appunto a caso ma sono stati studiati anche in base alla lunghezza alle calorie e alla fatica che si fa percorrendo questi questi tragitti quanto sono lunghi e appunto perché proprio questa lunghezza allora noi abbiamo sentito parlare da vari anni dei 10.000 passi 10.000 passi al giorno come benessere come prevenzione delle malattie e noi ci siamo basati sul che questi percorsi abbiano più o meno 10.000 passi 10.000 passi quindi sui 6 km e mezzo 7 poi dipende dal passo ognuno ha il suo passo però che potessero coprire quella distanza quindi un'ora un'ora e mezza al massimo che non presentassero delle difficoltà tali da creare degli impedimenti quindi sono fattibili per tutti certo oggi ci sarà ecco la salita del castello che sembra breve tutto ma qualche volta crea dei problemi il dislivello è importante però il resto è tutto quanto fattibile quindi abbiamo ogni volta cercato di eliminare quello che si chiamano le barriere architettonico per rendere veramente fruibili a tutti e tra l'altro è stata anche una scoperta per me che quando abbiamo fatto il primo percorso quello del 2015 sugli architetti Privino e Gino Valle facendo il percorso perché c'erano dei problemi con l'acciottolato abbiamo scoperto che su tante mura di case private c'erano delle targhe e qui c'era la prima cerchia la seconda cerchia qui c'era la torre per cui da lì è nata anche questa idea di ripercorrere la storia di Udine con le mura e quindi è nato proprio questo progetto assieme al Lions Club Udine Duomo che ha sposato veramente c'è stata una sinergia da realizzare questo progetto tra l'altro di Gino Valle parleremo anche noi questa sera con Massimo Campazzo nella nostra trasmissione di approfondimento quante associazioni fanno parte di questo progetto lei appunto rappresenta lo suite team ANIAD dell'FVG che si occupa in particolare diciamo così dell'attività fisica per le persone diabetiche ha citato il Lions Club però ci sono tante altre realtà che assieme collaborano appunto alla realizzazione di questi progetti poi ci sono tutte quante una moltitudine che anch'io ho scoperto essere notevole a cominciare dai gruppi di cammino del comune di Udine e a tutti quanti i gruppi che si occupano dell'attività motoria e dell'educazione dai bambini degli elementari fino alla quarta quinta all'età argento come vogliamo definirla per cui veramente adesso non saprei dirle quante sono però anch'io sto scoprendo giorno per giorno che ce ne sono tante e tutte lavorano e finalizzate al movimento e alla ricerca del benessere e tra l'altro le foto che vediamo scorrere alle sue spalle vediamo se la regia le mette adesso anche a schermo intero ci mostrano appunto alcuni momenti di questi gruppi di cammino che vengono organizzati durante l'anno nell'ambito dei progetti appunto di città sane gruppi in diverse parti della città si va dal centro città ai parchi del Cormor insomma vediamo davvero tante persone coinvolte in queste attività che sono importanti lei ricordava prima i mille passi al giorno i dieci mila passi al giorno consigliati per una buona salute voi date anche qualche consiglio pratico su come camminare su altre attività da svolgere allora la nostra idea la nostra mission come si dice era proprio quella di incominciare a fornire delle occasioni una buona offerta per tutti e piano piano ad arrivare come si dice l'attività fisica si comincia con il cammino però il consiglio è di incrementare l'intensità e la lunghezza proprio è seguire e in questa base il nostro progetto sarà proprio quello di dei rapporti con le istituzioni universitarie territoriali e anche di la regione e di extra regione di avere l'accompagnamento di preparatori atletici o di qualche laureato in scienze motorie proprio per migliorare questa funzionalità motoria perché vediamo nelle immagini delle persone quello che si dice anziane e poi si parla sempre di persone oltre 65 anni qua vediamo anche i bambini però sì no meno male anche perché mi preoccupo certe volte perché si dice sia anziano 65 mi avvicino e non è molto piacevole però veramente movimento per tutti proprio e il beneficio che si ottiene viene dai bambini fino agli anta anzi gli ultimi studi dicono che veramente il beneficio sulle persone maggiori di 65 anni a livello cardiovascolare è veramente notevole in riduzione del rischio dei malattie cardiovascolari per cui veramente ma attività motoria per tutti e anche la camminata appunto rientra nell'ambito delle attività motorie si parte da qui Stefano tu quanti passi fai al giorno 10.000 ci arrivi temo di no però ho deciso che vatterò subito a comprare un contapassi tra l'altro stavo già studiando i percorsi i percorsi vicino allo stadio ce ne sono parecchi parco del core more c'è un'irizzo i gruppi di cammino ognuno ha il suo percorso e i percorsi sono stati con quello che mi diceva lei suddivisi già in questa base abbiamo divisi da dei percorsi ginnico atletici quindi percorsi su terreni predisposti anche per una piccola corsa e dall'altra parte invece il percorso cittadino con in cui si punta sulla motivazione del culturale dello storico per cui ognuno a seconda delle sue possibilità può scegliere veramente quello che vuole e questa è la cosa importante nel frattempo abbiamo recuperato anche questa mappa che ci mostra la pianta della città di Udine con le cinque cerchia murarie e le due rogge vediamo la prima cinta muraria quella dell'anno 1000 in giallo poi vediamo appunto tutte le altre la seconda che è quella in verde e siamo nel nel 1100 eccola qua e poi vediamo tutte le altre della città città che appunto nei secoli si è ampliata ed è molto bella appunto anche questa mappa per andare a ricostruire un po' la storia della nostra città noi siamo in chiusura di questo nostro approfondimento però con lei vorrei fare un ultimo flash sull'attività della vostra associazione l'associazione Sweet Team che come dicevamo prima si occupa in particolare dell'attività fisica per le persone diabetiche possiamo dare qualche riferimento qualche dritta diciamo così a chi ci ascolta e che magari può essere interessato l'attività della vostra associazione allora oltre a poter fornire un indirizzo email che è www.suitim.fwg.it in cui potrete trovare tutte quante le informazioni sull'associazione poi posso dare due punti riferimenti temporali il 19 novembre in piazza grande a Palmanova in cui parteciperemo con un folto gruppo sia alla mezza maratona di Palmanova sia alle camminate non competitive di 5 e di 13 chilometri e poi in Giardin Grande in piazza primo maggio a Udine il 2 e il 3 dicembre in cui ci sarà la nostra sesta partecipazione alla staffetta Teleton che ormai è diventato il nostro obiettivo annuale quest'anno parteciperemo con 7 squadre però piano piano abbiamo iniziato con una due e come organizzazione abbiamo anche avuto delle squadre che non avevano la possibilità di amici di organizzare si stanno appoggiando a noi per cui faremo anche quindi saremo presenti lì potremo essere contattati da chi vuole delle informazioni e anzi perché lanceremo un'iniziativa che sarà pedala con noi e da luce alla ricerca in cui ci sarà un'installazione con tre biciclette che produrranno corrente elettrica e le persone che parteciperanno saranno invitate a pedalare fino ad accendere tutte quante le luci degli alberi di Natale di Natale perfetto ringraziamo Marco Lamon per essere stato con noi oggi rinnoviamo l'appuntamento alle 15 di questo pomeriggio mi ricordi dove? Piazza Libertà Terapieno della Loggia di San Giovanni quindi nel centro della città Stefano c'è qualche aggiornamento qualche ultimora? Facciamo qualche rapidissimo flash con notizia proprio anche questa non potevamo farne a meno Twitter rinuncia al dono della sintesi raddoppia si va verso i 280 caratteri notizie un po' più consistenti questa per un po' tutta la lotta di genere in Virginia è stata eletta la prima trans al congresso statale è una giornalista di 33 anni democratica ha conquistato tra l'altro il seggio di Richmond che per 13 mandati è stato repubblicano quindi è una notizia molto forte che arriva dagli Stati Uniti Stati Uniti che riguarda anche il solito Donald Trump che ha rinunciato per maltempo è saltata la visita al confine con la Nord Corea chissà se colpa del maltempo di un maltempo diplomatico l'abbiamo pensato tutti e lo continueremo a pensare comunque il Marine One si è alzato in volo ma poi non è atterrato al confine infine Udinese c'è la notizia ufficiale ormai lo sapete ma ve la ribadiamo Lazio Udinese si giocherà il 24 gennaio 2018 e invece per quanto riguarda gli anticipi una piccola correzione per quanto ho detto in rassegna stampa si giocherà l'unico che interessa l'Udinese è un anticipo del turno dell'Epifania si giocherà venerdì 5 alle 18 Chievo Udinese sabato 6 soltanto se l'Udinese dovesse arrivare ai quarti quindi dovesse battere Perugia e poi eventualmente anche il Napoli diciamo una fattispecie abbastanza difficile noi lo speriamo in quel caso se l'Udinese fosse ancora in corsa in Coppa Italia si giocherebbe normalmente il giorno dell'Epifania sabato altrimenti venerdì e noi speriamo di giocare il giorno dell'Epifania a questo punto anche se il Napoli non sta cosa dura però ci penseremo ci penseremo ci penseremo grazie ancora Marco Lamon per essere stato con noi grazie a Stefano Giovampietro per tutti questi spunti dal web grazie anche a Francesco Snidero Emanuele Sergi in regia tutti voi che ci avete seguiti anche oggi ci vediamo domani alle 7 per una nuova puntata di Buongiorno Friuli Grazie a tutti